Credita Gricol paga cara la sua avventura in terra portoghese, il rosso da 3 miliardi e mezzo di euro svelato da Banco e Spirito Santo, di cui è azionista al 14,6%, ha quasi azzerato i profitti del secondo trimestre. In totale, tra perdite e svalutazione, l'Istituto di Credito francese ci ha rimesso oltre 700 milioni di euro con l'utile netto sceso a 17 milioni. Meglio delle attese il fatturato, nonostante un calo dei utili dal mercato regionale francese. I vertici ora non escludono azioni legali contro la famiglia e Spirito Santo, i cui guai finanziari hanno trascinato a fondo la banca da essa creata. Lisbona è stata costretta ad intervenire con un salvataggio da 4,9 miliardi di euro per creare una nuova banca a tutela dei depositi, ad accollarsi le attività tossiche saranno invece gli azionisti.